Un cordiale saluto a tutti amici, ben trovati da Stefano Ghetti. La situazione meteorologica è decisamente cambiata in queste ultime 24-48 ore. L'anticiclone africano che in questi ultimi periodi ha dominato lo scenario meteorologico portando tanto caldo, qualche temporale di calore ma per il resto tanta stabilità. Sta perdendo, ha perso di energia, si è ritirato temporaneamente verso le sue terre di origine e si è formato un vortice ciclonico che nelle prossime 24 ore condizionerà il tempo soprattutto sulle regioni adriatiche del centro e su gran parte del sud. Il quadro meteorologico comincerà a dare timidi segnali di miglioramento invece per quello che riguarda le regioni del nord dove il tempo andrà lentamente migliorando. Questo perché? Perché l'anticiclone africano è tutt'altro che vinto, anzi nei prossimi giorni tornerà protagonista e soprattutto tra mercoledì e giovedì tornerà gradualmente ad avvolgere un po' tutta l'Italia riportando non solo la stabilità atmosferica ma tornerà a portare di nuovo caldo. Le temperature infatti saranno destinate ad aumentare nuovamente ma ci aggiorneremo. Per ora è tutto amici, a più tardi. Grazie a tutti.